Contro l'inciviltà e la maleducazione di un gesto come quello di abbandonare i propri rifiuti dove che sia, in barba, ad ogni senso civico, pur avendo a disposizione contenitori e punti di raccolta lungo il proprio tragitto, c'è poco da fare se non beccare sul fatto l'incivile autore del gesto, ma siamo nel campo della fortuna e delle poche risorse a disposizione nonostante l'incomiabile tenace lavoro delle guardie ecologiche comunali e degli agenti della polizia locale dedicati a questo tipo di reato. Ma dove non arriva il pubblico come sempre arriva il privato, oltre che a segnalare e a denunciare i cattivi comportamenti ci mette anche del suo, facendo ciò che l'insensibile concittadino avrebbe dovuto fare. Siamo in zona Madonna Ponte, in via San Michele, una traversa di via dell'aeroporto per intenderci una strada che porta in campagna e delle abitazioni. A denunciare questa situazione e il suo per durare un nostro telespettatore che stanco di osservare quasi da un anno questa deprecabile obitudine oltre che alla polizia locale ne ha dato anche notizie a noi. Io passo qui in questa strada quattro volte al giorno perché ho l'orto e vedo queste scene, questi sacchetti chiusi buttati ai margini della strada. Quindi le prime volte, già da un anno, le prime volte l'ho raccolto io e non ho messo a posto. Poi ho parlato con l'ASET, l'ASET lo manda a prendere però qualcuno lo rimette sempre nello stesso posto considerando che a 100 metri prima ci sono due contenitori dei rifiuti dove potrebbe buttarla e 100 metri più avanti c'è un punto di raccolta rifiuti dove potrebbe lasciarlo. Però il mercoledì perché la raccolta è di mercoledì. Tutti i giorni? Lo butta in giornate qualsiasi? In qualsiasi giornata lui butta, molto spesso anche di giovedì e la raccolta è mercoledì. Forse non lo sa, magari glielo facciamo sapere. Nel caso che il fantomatico scaricatore abusivo non fosse residente nel posto può lasciare sì l'indifferenziata sul ciglio della strada ma non quando e dove gli pare. Diversamente è un abbandono illecito di rifiuti, punibile con una multa fino a 3.000 euro come recita l'articolo 192 del testo unico sull'ambiente. Ma dà molto fastidio. Speriamo che non si ricordi. Ma è un anno che va avanti. Ecco perché lo dico a voi perché ormai non c'è più niente da fare. In un momento così civile come il nostro vedere queste scene non è piacevole.